Il settore agroalimentare non è immune dalle mire espansionistiche di strutturati sodalizi delinquenziali, non solo i reati tradizionali ma anche quelli legati agli interessi della criminalità organizzata, estorsioni, usura, riciclaggio, adulterazioni, sofisticazioni e contraffazioni alimentari. Le mafie sono poi molto attrezzate nelle frodi fiscali a danno dell'Italia ma anche dell'Europa. Al Tg8 il commento del presidente di col diretti sulla maxi operazione denominata Transumanza, coordinata dalla Guardia di Finanza di Pescara e dalla Direzione Distrettuale Antimafia dell'Aquila che ieri ha portato a 25 arresti. Innanzitutto va fatto sicuramente un plauso alle forze dell'ordine e alla magistratura che hanno portato a compimento questa importante operazione. Il settore zootecnico lo richiedeva da tempo perché noi abbiamo tante difficoltà come settore e abbiamo bisogno dei nostri pascoli e quindi questo è sicuramente un'operazione rivolta alla tutela del nostro comparto. Un ruolo di primo piano attribuito ai prefetti quali nell'esercizio della funzione di amministrazione generale coordinano gli interventi di prevenzione e contrasto di questi fenomeni sul territorio. Va da sé che i prodotti agroalimentari e il cibo sono una ricchezza che siamo impegnati a tutelare e a difendere. Una filiera legale garanzia di benessere e prosperità per le imprese del settore ma soprattutto per la salute dei cittadini. Col Diretti è sempre attenta a queste tematiche. Lo dimostra anche l'osservatorio costituito sulle agromafie già da una decina d'anni e quindi siamo molto attenti su questi temi e per la tutela dei nostri prodotti e dei nostri allevatori.